come si dice in la vita? quando si inculina? quando si mattina la rauva? ti piace questo ultimo mio acquisto? bello, ve lo faccio vedere da vicino questo è un chiamaschiavi voilà veramente bellissimo, in bronzo ehi, oggi è il caffè ehi, questo non è gioco per cagnarini questo è il chiamaschiavi bello, fa pure un bel suono proprio come le campagne bello, guardate che lavoro indovinate quando l'ho comprato? in bronzo questo è bronzo antico allora questo qua praticamente forse non si sa da come ho potuto capire doveva essere della regina Maria Antonietta però non si sa ancora dobbiamo dobbiamo cercare bene perché non c'è neanche una una marca forse è bello magari vai a comprare se trovi queste cose agiti così si esce il geno della lampada esce una bella signora che dice io ti organizzo tutti i tuoi desideri che cosa vuoi? allora i miei tre desideri che le persone sanno sempre bene chi ha un tumore guarisca quindi che che tutti quanti possono avere tanti soldi da fare una bella vacanza anzi non sono una bella vacanza tanti soldi sempre se no abba finisce e che l'ultimo desiderio è che vorrei talmente di quei soldi va bene che già ce l'ho non ho un problema però vorrei talmente di quei soldi che posso aiutare a tutte le persone voilà questi sono i miei tre desideri bello eh ragazzo guardate che bella che bel lavoro allora volete sapere per quando l'ho preso? lo devo dire l'ho preso per la modica cifra su una bancarella che vendeva cose tutte quante da buttare questo era l'oggetto che mi ha interessato particolarmente allora l'ho preso per la modica cifra di 4 euro allora è un bellissimo lavoro è in bronzo e ora bisogna vedere però allora da come come stavo con il mio amico ehm esperto può essere che questo oggetto appartenga a Maria Antonietta no non si sa quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a ricavarne bene bello eh guarda che lavoro quindi poi essendo un chiama schiavi è praticamente facile che serviva in queste case ricche all'epoca che poi anche una donna una donna francese no non 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 ma non non quello non Grazie.